Se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque. Alessandra Cartocci, 45 anni, retina doc, trapiantata in Svizzera per amore, è una musicista e maestra di canto. Pianista, diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, poi gli studi al Mozarteum di Salisburgo. Dopo alcune avvisaglie, un anno fa arriva una sentenza di quelle non appellabili, sclerosi multipla e Alessandra perde la voce. Per di la voce, e che fai? Non ero più credibile in niente, né come insegnante, né come fare gli esempi, né nel portare avanti, cioè chi mi conosceva già mi conosceva, ma poi mi sono detto ma tra due o tre anni questi vanno via, no, come è che succede sempre e io come mi presento l'insegnante di canto che non sa cantare, come si fa? La malattia per Alessandra però diventa un'occasione, anzi una benedizione come dice lei stessa, per capire meglio il proprio corpo, tornare ad insegnare e far capire agli altri che la musica non ha barriere. Mi tocca il cuore e c'è la musica Un'esperienza trasferita nell'ebook Canta fino alle stelle, scaricabile gratuitamente dal sito alessandracartocci.com Ho parlato con una foniatra che mi ha aiutato a prendere dei medicinali giusti per rinvigorire i muscoli nella gola, eccetera. E poi però io mi sono data da fare e secondo me la cosa più bella che mi ha portato a scrivere questa cosa e poi dopo regalarla è stato rimettermi nei piedi di chi comincia o di chi è già affermato ma a un certo punto trova la crisi perché si blocca, perché non sa più fare, perché ha fatto qualcosa di sbagliato, un po' come gli atleti che si fanno male. Lì mi sono resa conto veramente della differenza tra chi comincia perché cominci perché vuoi diventare cantante e chi comincia perché non ci capisce niente. Deve partire da zero, non capisce, non sa cos'è la laringe, non sa cosa sono le corde vocali, non lo sai. È inutile che ti dica che cos'è il diaframma perché tanto non sai neanche come contattarlo. E quindi secondo me questo è stato l'approccio che ha fatto la differenza, cioè mettermi veramente nei panni di chi percepisce il problema. Per me questo è il messaggio, cioè te puoi cantare, io posso cantare, tu puoi cantare, però devi avere accesso al modo per poterlo fare. Non è che un libro di per sé, un librino, possa cambiare la vita di nessuno, però è un inizio e attraverso questo inizio poi piano piano si può rimanere in contatto e uno poi segue via via tutte le cose che io posso fare. Nel momento in cui ritrovi la capacità di lasciarti andare, di cantare come veramente puoi e come può una persona come me che quindi ha questa muscolatura ballerina che ogni tanto va e viene, e lì si sblocca tutto. Grazie.